Il Paradiso, puntata 4-12, le condizioni di salute di Matteo si aggravano improvvisamente. La puntata Il Paradisi delle donne, andata in onda su Rai 1 il 4 dicembre. Ha raccontato la paura e la disperazione di Matteo mentre le sue condizioni peggiorano improvvisamente. Il destino diventa interessante, poiché questo deterioramento arriva quando Concetta cerca di convincere Marcello a perdonare suo fratello. Intanto Marta non riesce a comprendere la posizione di Enrico e comincia ad evitarla in ogni modo possibile. Interessante anche la trama tra Umberto e Tancredi considerando le loro nuove modalità lavorative. Il mio rapporto con Matteo si deteriora improvvisamente, anteprima di The Ladies Paradise 9 Portelli viene ricoverato in ospedale dopo aver salvato Michelino. Le sue condizioni sono gravi e Silvana, come la sua amica, versa in una situazione senza speranza. Nel frattempo la nonna di Elvira escogita un piano per riconciliare la nipote con il padre. Nel mezzo ci sono un bambino e due ragazzi che vogliono fare sul serio. Ma Ladies Paradise si sforza di mantenere un'atmosfera tranquilla, qualunque cosa accada a Matteo. Sta per lanciare una nuova collezione ed Elia ha una grande idea su come allestire le vetrine dei negozi. Silvana è disperata per suo figlio Matteo. Umberto e Tancredi sono sempre in palla dopo il recente contratto di lavoro e vogliono portare Galleria Milano moda alle stelle e sbaragliare completamente la concorrenza. Data la natura di entrambi, questa alleanza è piuttosto spaventosa. Concetta ha altro a cui pensare e teme il peggio. Vinse Marcello a riconsiderare l'accaduto e lo esorta a perdonare Matteo. Silvana è disperata e ha paura di perdere il figlio, che ha dovuto obbedire alle minacce di Umberto per salvarle la vita. Adesso è lui che rischia di non riuscire a programmare il futuro. Matteo ha ancora intenzione di lasciare Milano. Marta è in crisi a causa di Enrico. Lo farà non appena starà meglio. Sfortunatamente, la sua salute peggiora improvvisamente, rovinando ogni decisione che prenderà. Sei preoccupato per lui e per quello che succederà. Mentre i parenti di Portelli si siedono al suo capezzale e pregano per lui, Marta non sa come comportarsi nei confronti di Enrico. Sa cosa è successo a sua moglie ma non riesce a capire perché lui si allontani e la eviti il più possibile. Ho la sensazione che Enrico non sia del tutto onesto e si nasconda ancora nel l'ombra del suo passato. Non c'è altra spiegazione a questo atteggiamento, poiché è chiaro che lui è interessato a Marta. Per quanto riguarda Matteo, c'è una teoria secondo cui Marcello potrebbe ritirarsi per paura di perderlo per sempre. Alla fine è stato costretto ad accettare le minacce di Umberto. La vita di sua madre Silvana era in pericolo.